Ciao, sono Monica di Impara, l'inglese con monica.com e nella lezione di oggi voglio rivelarti il significato dell'Idiom of the Week che ho selezionato per te questa settimana. The idiom of today is you got me there. You got me there means I don't know. L'espressione idiomatica you got me there significa mi cogli impreparato, non saprei risponderti. Facciamo un esempio. What is the greenhouse effect? You got me there. I don't know. Che cos'è l'effetto serra? Mi cogli impreparato, non lo so. Bene, per oggi è tutto e ti aspetto la prossima settimana con un nuovo Idiom of the Week. E nel mentre ti invito a condividere questo video e a taggare una persona alla quale credi questa espressione idiomatica possa essere di interesse. A presto!